I ragazzi lavoreranno in questa piccola rosticceria che l'abbiamo chiamata I Carbonari e non a caso I Carbonari perché richiama l'Istituto Tor Carbone e gestiranno in tutto e per tutto quello che faremo. Abbiamo rilevato un piccolo locale però al centro di Roma molto interessante e sottratto alla mafia e noi con i ragazzi dell'Istituto Alberghiero abbiamo creato una cooperativa che verrà a gestire questa struttura nel modo più onesto possibile e immaginabile. Adesso siamo veramente all'inizio quindi hanno aperto la serranda e hanno imparato sin dall'inizio come si apre un'attività dall'A alla Z, dal gas all'acciatura del gas alla corrente a strutturare tutto quello che verrà fatto. È un progetto straordinario secondo me che avrà un successo enorme perché ce la stiamo mettendo a tutta.